Una golosa sorpresa ti aspetta in esclusiva da Poli, lo Stecco del Trentino. Tante proposte di squisito gelato artigianale nel pratico formato confezionato disponibile solo nei nostri supermercati. Per creare questa delizia di freschezza e cremosità, Poli si affida alle migliori mucche trentine, raccogliendo solo latte fresco di giornata per fare il pieno di bontà e salute. Stecco del Trentino, tutta la bontà del gelato artigianale al supermercato con latte fresco del Trentino e ingredienti genomini.